Non c'era in palio solo il blasone fra Forlì e Ravenna, ma solidi interessi di classifica col turno infrasettimanale che aveva lasciato inalterate le distanze per quanto riguarda la prima posizione della Ravenna da cercare e aveva lanciato anche il Forlì nel match in casa della Trizium. Davvero contestatissimo, prima del match anche il minuto di raccoglimento per il direttore sportivo Di Fabio, scomparso in settimana per il Forlì. Abbiamo visto la prima occasione per il Ravenna, l'occasione per Elia Ballardini al ventesimo e poi ancora Elia Ballardini che si scatena e offre l'assist per il gol del vantaggio del Forlì. E la firma è ancora di Ballardini, ma di Eric, il fratello dunque che porta avanti il Forlì, ma tre minuti più tardi ancora la punizione battuta in area di rigore, pera pera, cross! E c'è il colpo di testa vincente di Piva, un 1-2 terrificante, quello della Forlì che alimenta l'entusiasmo autentico di una Morgani, quest'oggi indiavolato che ha trascinato la squadra di Graffiedi alla vittoria, nonostante questo colpo di testa effettuato da parte di Spinosa, salva il portiere Ravaioli. E poi ancora il Ravenna, con questa battuta di Calì, sempre attentissimo, quest'oggi Ravaioli. Una Ravenna che nel finale della prima frazione ha reclamato una penalty, guidone il contatto, forse con il braccio sulla pallone di Scalini. Tante le proteste, andiamo a vedere l'ingrandimento operato proprio negli nostri highlights e sembra esserci effettivamente un tocco molto sospetto. Tante le proteste, alla fine il direttore di gara ha optato per la non assegnazione del penalty. E allora andiamo nella ripresa, siamo al decimo minuto di gioco, con l'azione del neo entrato Podestà, buon impatto per lui. E poi la grande girata di Calì e ancora Ravaioli. Attentissimo! Ravenna che nel secondo tempo opta una sorta di monologo, senza però essere particolarmente incisivo. C'è il cross di Dorsi, dalla sinistra per Guidone, alto il suo intervento. E poi punizione proprio di Dorsi, Ravaioli che respinge con i pugni, sbaglia questa conclusione il Ravenna. Anzi no, si trattava proprio di Dorsi nella conclusione finale, dunque Ravenna che non riesce ad accorciare le distanze, anche con questa battuta di Spinosa sulla sponda di Guidone. Passano però i minuti e il Forlì capisce che può portare a casa il match. Reclama a sua volta un rigore in area, va giù pera sul contrasto con Antonini. Lui vediamo spostarsi in questo caso la traiettoria del pallone, dunque ci sentiamo di condividere la decisione della direttore di gara. Quest'oggi in difficoltà, Saporetti, punizione alta dal limite. Molto ben limitato il centravanti autentico mattatore della Ravenna, mattatore lo è stato sicuramente. Lì a Ballardini sfiora il tris per il Forlì, poteva essere l'autentico punto esclamativo sul match che comunque sia scivola senza troppi patemi verso il suo naturale epilogo. Anche perché Saporetti nell'unica fiammata calcia però debolmente di sinistro. E allora arriviamo proprio nei minuti conclusivi quando il pubblico ormai non stava più nella pelle. Quello di Forlì per festeggiare la vittoria nel derby contro il Ravenna, vittoria che si è materializzata con la punteggio di 2 a 0.